Akeem Williams ha vinto il Tampa Pro 2022 qui lo vedete con la consueta delicatissima spada del potere o spada del fuoco passano davanti a Kamal Elgarney e Quinton Iraya e qui vedete tutti gli altri posizionamenti e poi dopo anche la scorecard quindi penso che sia una vittoria meritata non è apparso nella miglior condizione ma la definizione è sempre il punto debole di Akeem Williams in più ha avuto anche un incidente automobilistico qualche settimana fa e ha detto che ha dovuto fare anche della fisioterapia e non si è potuto allenare come si è voluto allenare però nonostante ciò non penso che si è arrivato chissà quanto definito perché questo è una Akeem Williams un po' al solito come lo vediamo penso che la vittoria sia meritata tra i primi tre non sto contando Phil Klahar a destra è quello che mi piace di più Kamal era sicuramente il più definito però stiamo parlando di 30 kg in meno rispetto agli altri nonostante la definizione mi piace di più Akeem in generale le pack di Akeem sono la definizione che azzecca una volta ogni quattro contest e poi c'ha un bel buco nella lower back nel back double bicep si vede tantissimo però alcune pose tipo il side chest most muscular front double bicep e altre nonostante l'attaccatura un po' altra le dorsali sono molto buone e parlo soprattutto delle gambe a livello di pose laterali side chest, side tricep ma anche in quelle frontali è un bodybuilder che a me piace però deve arrivare più definito in un video ho parlato mi sembra addirittura del fatto che mi piaccia più di Brandon Curry perché comunque ha le gambe però non è un bodybuilder che penso possa ambire a più della top 10 a Mr. Olympia a delle lacune dorsali alti buco nella lower back che non colmerà mai in più non porta mai una definizione granché buona Quinton Iraya non mi piace granché molto incerto nel posing sinceramente non ci vedo tutto sto granché che fa gridare al miracolo la gente non lo capisco sinceramente perché la linea sia così ossessionata da Quinton Iraya non mi pare niente di eccezionale un buon bodybuilder ma niente di eccezionale un po' incerto anche lui nel posing ha bisogno di più densità nella schiena e alla fine penso che il risultato del contest sia giusto in generale la definizione fa vincere gli show però forse i giudici hanno premiato il fisico più da open cioè Kamal non ha un fisico da open è appena passato all'open dalla 212 è più piccolo poi non si aprono bene i dorsali ha dei dorsali troppo poco sviluppati in certe pose cioè nel fronte del bicep soprattutto rimane sul versante piccolino nonostante abbia vinto la 212 due anni fa se non sbaglio è un ottimo bodybuilder però comunque ha 50 anni così come Phil Clark e qui vedete la schiena è un po' poco densa non mi sarei stupito se avesse vinto Kamal e quando ho visto il pre-judging ieri ero dell'opinione che avrebbe vinto lui per la definizione però così non è stato probabilmente i giudici hanno voluto premiare dei parametri più da open bodybuilding che Hakim Williams porta a differenza di Kamal e di Quinton Iria che comunque come detto è molto acerbo non penso che non possa far bene in futuro però al momento mi sembra molto acerbo quindi very compliments vittoria nobile e qualificazione per Hakim Williams deve lavorare sulla definizione chiaramente perché quello è il suo punto debole buona è